Vecchi cuori bianconeri, quanto tempo è passato dall'ultimo video così? Quanto tempo? Ogni estate ci mettiamo qui a fare questo format lato Juve. E quindi chi compra la Juve, te lo dico io. E la cosa bella è che ogni anno si è evoluto, ogni anno è cambiato. Si è partiti facendo un elenco dei nomi possibili, potenziali, probabili per la Juve. Alcune volte ci abbiamo beccato, altre volte invece è stato un clamoroso buco dell'acqua. Fino ad arrivare a quella che credo possa essere la migliore configurazione possibile per cercare di darvi in anteprima quella che potrebbe essere la Juventus dell'anno prossimo, quindi 24-25, molto probabilmente sotto la guida tecnica di Tiago Motta. È un misto questo video, tra quello che farei io, quello che penso potrebbe fare la Juve, e quello che credo potrebbe accadere mischiando le mie preferenze e quelle che sono le linee guida di Giuntoli. È proprio tal proposito che rispondo a una domanda. Tantissime persone mi hanno chiesto in questi mesi ma che cosa ha fatto Giuntoli se questo è il suo anno zero e non è potuto mai intervenire effettivamente? Ha fatto soltanto il mercato invernale? No. Giuntoli è arrivato l'anno scorso, ha iniziato a portare avanti quella che era la campagna di programmazione della sua Juventus, è arrivato a scegliere il tecnico a gennaio, l'esonero di Allegri è arrivato in maniera un po' diversa probabilmente rispetto a quelle che erano le attese, perché oggi il Milan ha ufficializzato anche l'addio di Pioli e secondo me la Juventus stava aspettando di fare qualcosa di simile anche con Max Allegri, e poi ha iniziato a buttare giù alcuni nomi che potrebbero essere interessanti per il mercato della Juve. Io ho letto che la Juventus avrebbe un budget per il mercato di circa 30 milioni. Allora ragazzi, bisogna partire da un presupposto. Non funziona così il calcio mercato. Questo è quello che è stato passato un po' negli anni anche con i vari software, i vari giochi di calcio, hai tot soldi, devi fare questo. No, non è proprio così. La Juventus avrà dei costi di gestione annuali, avrà degli ammortamenti nel tempo derivati dai cartellini, dagli anni di contratto ai calciatori, da quelli che sono effettivamente gli stipendi dei calciatori, e ogni anno avrà una potenza di fuoco di un certo tipo. Ovviamente, cedendo calciatori e quindi guadagnando soldi dai cartellini, oppure cedendoli e basta, andando a liberare spazio salariale, la Juventus va ad aumentare questa potenza di fuoco. La parola d'ordine per la Juve è sostenibilità e competitività. Allo stesso tempo, sono due parole d'ordine che si intrecciano in un'unica cosa. Quindi io immagino che la Juve quest'anno avrà la volontà di cedere tanti giocatori, di liberare tanto spazio salariale, di cercare di abbattere quelli che sono i costi di gestione più importanti, e allo stesso tempo andare sul mercato e andare ad acquistare determinati giocatori. Ci sono anche dei giocatori in prestito che sono stati valorizzati da altre squadre che vengano fuori dalla Next Gen, oppure giocatori che non erano più utili al progetto, eccetera, eccetera, che hanno lasciato la Juve e potrebbero tornare. Quindi ora vado a farvi veramente un elenco di quelli che sono tutti i giocatori della Juve, di proprietà, ma che non hanno giocato una Juve in questa stagione, e poi andiamo a dividere tutti i tesserati della Juve in varie categorie. Intanto abbiamo Sule, Rovella, Arthur, Uisen, Baranecea, Luca Pellegrini, Kai Orge, Facundo Gonzalez, Marley Ache, Gianluca Frabotta e Stefano Gori, che in questa stagione hanno giocato lontano da Torino e che sono giocatori che andranno inseriti all'interno di questo ragionamento. Che cosa farei io con tutti questi calciatori? Ho diviso in cinque categorie tutti i tesserati Juve, da quelli che terrei, che sono giocatori che secondo me possono essere anche titolari, che comunque sono incedibili per un discorso relativo allo sport, quindi alla volontà di raggiungere determinati obiettivi per la Juve. Quelli che secondo me possano rimanere, ma devono essere considerati come delle riserve, non come dei titolari. Quelli che di fronte a una buona offerta comunque andrai a cedere, poi alcuni possano rimanere, alcuni no, però sono giocatori che non ritengo incedibili. Quelli che venderei al 100% e quelli che darei in prestito. Queste sono le cinque categorie che ho creato per il mio pensiero. Quello che farei io potessi amministrare la rosa della Juventus. E allora, in quelli che tengo assolutamente ci sono Scesni, Bremer, Cambiaso, Fagioli, Chiesa, Ildiz e Vlaovic. Questi sette calciatori sono quelli che io non darei via che manterrei all'interno della rosa della Juventus. Sono questi sette. Già questo vi fa capire, ragazzi, che ci saranno tanti movimenti o potrebbero esserci tanti movimenti. Dopo vi faccio vedere quelli che andrei a vendere sono veramente tanti. Come riserva terrei Pinsoglio, Rugani, Nicolussi, Milik, Sule e Uisen che rientra al prestito della Roma. Questi sono giocatori che secondo me all'interno della rosa Juventus potrebbero starci tranquillamente. Poi ci sono quelli che considero cedibili e cioè Federico Gatti, Danilo, Locatelli, McKennie, UEA e Eiling Junior per motivazioni differenti. Alcune relative al contratto, alcune relative all'anagrafica, alcune relative al tasso tecnico, altre relative al fatto che sono giocatori che si possono ancora monetizzare. Ripeto, non significa che questi andranno fuori tutti, sono quelli per cui sono indeciso e ci sono motivazioni. Sì, questo lo cedo a sé, questo lo cedo a sé, questo lo cedo a sé. È ovvio che non possiamo immaginarci una Juve che farà 50 operazioni di mercato, quindi anche quelli che finiscono tra i cedibili poi è molto probabile che rimangano. Ci sono tre giocatori che darei in prestito e sono Miretti, Thiago Jalot e Facundo Gonzalez della Sampdoria che quest'anno ha fatto la sua prima stagione in Serie B e vorrei vedere almeno in Serie A. Thiago Jalot per dargli il minutaggio dato che non ha ancora mai giocato neanche un minuto con la Juve anche in questo caso non significa che poi dovranno uscire tutti necessariamente. E arriviamo invece ai giocatori che andrei a cedere, quelli per cui non starei a piangermi addosso e che secondo me sono tranquillamente cedibili Perin, Alexandro, De Sciglio, Rabiot, Alcaraz, Pogba, Kostic, Ken, Rovella, Arthur, Barrenecea, Pellegrini, Caio Orge, Ake, Frabotta e Gori. 16 giocatori di proprietà della Juventus che per me possono uscire sommati e tre prestiti fanno circa una ventina di calciatori in uscita. Significa che la Juventus farà tutte queste eccessioni? Ancora una volta no, ma questo è quello che farei io. Non significa che sarà effettivamente così. Esempio, Rabiot, giocatore che va in scadenza di contratto e che non è detto che la Juventus non proverà a rinnovare. E infatti da qui che è quello che avrei fatto io passiamo a quello che secondo me ha in mente effettivamente la Juve. Perché Rabiot si guadagna una nuova categoria da 5 passiamo a 6 quei giocatori che potrebbero rinnovare e c'è solo dentro lui perché poi Alcaraz potresti rinnovare il prestito ma non credo che la Juventus sarà così interessata a trattare per Alcaraz. Rugani sta per rinnovare Alexandro non rinnoverà quindi Rabiot si crea una vera e propria categoria di quei giocatori che possa rinnovare. Poi per come ve la penso io e lo pensavo già l'anno scorso Rabiot è uno di quei giocatori che è forte penso che sia uno dei centrocampisti il principale centrocampista di questa stagione nonostante non sia stata una bella stagione anche per Rabiot comunque uno dei più forti all'interno della Rosa della Juventus ma per il discorso relativo allo spazio salariale di cui vi parlavo prima i costi di gestione eccetera eccetera non avrei problema ad abbatterlo per cercare poi di andare sul mercato e migliorare il reparto quindi questa è un po' la mia valutazione e secondo me è quella che farà la Juventus soltanto due giocatori rimangono come riserve effettivamente per la Juve perché poi secondo me la Juve ragionerà molto del se mi arriva l'offerta all'Ocedo e quindi non è un problema e quelli che rimangono possono essere riserve però Rugani che sta rinnovando che era in scadenza è una riserva Pinsoglio che è il terzo portiere è una riserva per me per la Juve di giocatori che non possono essere visti lontano da Torino il prossimo anno ci sono soltanto Scesni Cambiaso Fagioli Ildiz Vlaovic Gatti Danilo e Locatelli bene o male secondo me questi per la Juve sono i giocatori standard insieme a le due riserve Pinsoglio e Rugani da cui ripartire secondo me questi giocatori questi dieci giocatori li vedremo comunque nella rosa della Juve l'anno prossimo poi ci sono i giocatori che la Juventus considera accedibili sono McKennie che ha rifiutato il rinnovo di contratto e ci sarà la proposta per un nuovo rinnovo a fine stagione UEA Ealing Bremer e Chiesa che sono due giocatori che io terrei ma secondo me per la Juve sono monetizzabili Bremer perché l'anno prossimo nascerà questa clausola recessoria Chiesa perché va in scadenza 2025 quindi sono situazioni che vanno gestite in un certo modo Milik per me è un giocatore che si arriva in offerta può partire per la Juve io lo terrei come riserva sono sincero non andrei ad aggiungere una nuova operazione di mercato per andare anche a sostituire la riserva di Vlaovic ma la Juve potrebbe pensarci e secondo me anche sulle Uisen e Nicoluzio Caviglia per la Juve sono giocatori tranquillamente monetizzabili poi andremo a vedere quello che secondo me succederà sui prestiti non è cambiato niente ma sui giocatori che sono in uscita secondo me per la Juve c'è Perin perché c'è la volontà di andare su un altro portiere che abbiamo già parlato Alexandro De Sciglio Alcaraz Pogba Kostic Ken Rovella Artur Barrenecea Pellegrini Caio Ache Frabotta e Gori poi su Rovella c'è il discorso relativo all'obbligo al prestito con obbligo da parte della Lazio quindi non è nemmeno un'operazione che la Juve va a fare però sono tutti giocatori che secondo Transfer Market erano in prestito in altre squadre per la Juve e quindi questo è bene o male l'elenco che secondo me la Juventus ha segnato sulla scrivania di Giuntoli dei giocatori in uscita poi però bisogna unire quello che immagino la Juventus avrà in testa quelle che sono le mie referenze e quello che poi accadrà alla Juve quindi ora vi vado a dire quelli che secondo me saranno i giocatori che rimarranno alla Juve e quelli che usciranno dalla Juve l'anno prossimo rimarranno quindi a Torino per me Scesni Bremer Cambiaso Fagioli Chiesa Ildiz Vlaovic Pinsoglio Rugani Nicolussi Milik Gatti Danilo Locatelli Wea Iling Tiago Jalò Ed Enzo Baranecea questa potrebbe essere la spina dorsale dei giocatori che per un motivo o un altro non riesco a cedere lo voglio tenere perché è il contratto lo voglio tenere perché è il livello eccetera 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 rimarranno alla Juve ho cercato anche di essere molto ottimista perché nella mia testa uno tra Bremer e Chiesa potrebbe essere ceduto però qui torniamo un po' a quello che era il video che avevo portato qualche settimana fa in cui vi dicevo attenzione che mi hanno detto che la strategia di Giuntola è molto chiara avere un 11 titolare veramente molto forte monetizzare con quelli che sono i giocatori anche della next gen che si sono messi in mostra sulle riserve un pochettino arrangiarsi e fare un mercato totalmente italiano basato sulla serie A questo è quello che mi hanno detto e qui io ho lavorato per cercare di immaginarmi la Juventus quindi in uscita io vedrei Perin Alexandro Desciglio Rabiot Alcaraz Pogba Kostic Ken Rovella Artur Pellegrini Cagiorge Ache Frabotta Gori McKennie Miretti Gonzales Sule e Uisen tra prestiti scadenze di contratto o cessioni monetizzate come nel caso magari di Sule e Uisen queste secondo me sono le uscite che farà la Juventus fatemi sapere un po' come ne pensate questo sotto nei commenti e se ancora non l'avete fatto lasciate un like a questo video immaginandomi una rosa composta circa da 23 giocatori che sarebbe un titolare e una riserva tranne per il portiere che sono tre più alcune aggiunte da parte della next gen o di quei giocatori che la Juventus non riuscirà a cedere quindi manterrà il rosa secondo me servono alla Juventus 5 acquisti una volta considerato quelli che sono i titolari quelli che sono le riserve quelli che rimangono a Torino 5 acquisti che servono la Juventus per completare la rosa in maniera competitiva dando un'occhiata principalmente alla Serie A perché questa sembra essere l'intenzione dei giuntoli e per migliorare quelli che secondo me sono i punti fondamentali della Juve perché d'accordo esce Perini e quindi servirà un portiere io in attacco credo che la Juventus possa tranquillamente fare con i 6 attaccanti rimanenti e poi magari aggregare qualcuno dalla next gen o metti che Kai Orge non riesce a cedere e quindi rimane come settimo attaccante però immaginarmi un tridente Chiesa Vlaovic e Ildis con in panchina Milik Weah e Eiling potrebbe essere assolutamente ok per affrontare la stagione l'anno prossimo anzi mi sembra un ottimo tridente titolare con dei giocatori in panchina con delle caratteristiche anche simili a quelle dei calciatori che abbiamo citato le grandi criticità della Juventus secondo me sono i centrocampisti perché abbiamo ceduto Rabiot abbiamo ceduto McKennie perché va comunque aumentata la qualità del reparto e i terzini perché noi abbiamo giocato con una difesa 3 e quindi per forza di cose servirà a modificarla per arrivare a una difesa 4 anche se i terzini Tiago Motta lo sappiamo svolgono un compito leggermente diverso dal terzino classico di spinta che siamo abituati a vedere eccetera eccetera la struttura della difesa per andare a 4 modificare il centrocampo per aumentare la qualità e allungare la rosa anche con alcuni giocatori come magari appunto Barrenecea che rientra dal prestito e può essere uno di quei giocatori lì o 3-4 elementi da next gen o dei giocatori che non riesci a cedere e ti rimangono e quindi cosa fai li tini in rosa perché l'anno prossimo avrai tante competizioni quali potrebbero essere questi giocatori da acquistare? Per la porta sappiamo che la Juve è molto vicina a Michele Di Gregorio del Monza che domani proprio la Juve andrà ad affrontare nell'ultima gara casalinga l'ultima gara della stagione anche l'ultima gara di Montero prima di quello che sembra essere a tutti gli effetti il destino e cioè l'annuncio di Tiago Motta c'è un difensore di cui si è discusso tanto è che la Juventus sembra avere bloccato ed è proprio uno di quelli che si porterebbe dietro Tiago Motta dal Bologna e cioè Riccardo Calafiori 22enne mancino che ha strappato anche la convocazione nei 30 per la nazionale di Luciano Spalletti in vista dell'europeo e quindi Calafiori sembrerebbe essere il colpo principale per la Juventus dal punto di vista difensivo poi ci sono due giocatori che sono stati discussi e anche tanto lato Juve e non solo in stagione sono due giocatori che giocano entrambi all'Atalanta e che quindi hanno appena vinto da titolari una finale di Europa League sono due giocatori che l'Atalanta andrebbe a farsi pagare a peso d'oro uno ha già annunciato che lascerà Bergamo e cioè Teon Cobmeiners che è un giocatore che a me piace da impazzire e che secondo me ancora una volta secondo me sarebbe il partner ideale da mettere alle spalle di Vlaovic in un ipotetico 4-2-3-1 quindi Cobmeiners potrebbe essere uno di quei colpi che la Juventus sogna di fare e che andrebbe a finanziarsi con le cessioni di Sule le cessioni di Uisen il risparmio dello stipendio di Rabiolo il risparmio dello stipendio di Alexandro il risparmio di stipendio di Pogba cioè tutte queste operazioni liberano spazio salariale liberano potenza di fuoco per la Juve e permettono un grande investimento quindi Calafiori non sembra un grande sborso economico 25-30 milioni di Gregorio sembra una ventina magari con la possibilità di inserire Perin chissà per Calafiori può inserire un altro giocatore forse l'Atalanta possa interessare alcuni giocatori della Juve magari lo stesso sulle non lo so non ho idea io lo terrei sulle sono sincero ho già detto tante volte che mi piacerebbe tenere sulle all'interno della rosa della Juve ma immagino che la strategia di Giuntoli come vi ho spiegato sia quella invece di andare su giocatori che vadano subito a migliorare definitivamente decisamente l'11 titolare della Juve e quindi Cobb Mainer secondo me è l'obiettivo principale per la Juve l'altro centrocampista è Ederson che abbiamo ammirato anche in finale di Coppa Italia contro di noi e a uomo su Rabiot avrà corso 500 milioni di chilometri l'altra sera in finale d'Europa Liga ha fatto un'altra prestazione della Madonna e io credo che andare ad acquistare entrambi i centrocampisti dell'Atalanta sarebbe un colpo incredibile per la Juve che ha fatto tante cessioni ma che poi deve fare solo 5 acquisti di livello quindi questi 4 nomi dato che stiamo guardando il mercato della Serie A perché Giuntoli sembra voler andare a prendere giocatori già pronti senza bisogno di adattarsi al campionato eccetera eccetera di Gregorio Calafiori Cobb Mainers e Ederson rimane un quinto giocatore ad andare ad acquistare che per me deve essere un terzino per andare a completare quello che è anche l'idea del ricambio all'interno della stagione ma sinceramente non mi viene in mente nessun tipo di nome e qui lascio spazio a voi nei commenti fatemi sapere quale potrebbe essere un terzino abbordabile per la Juve e anche a Giuntoli perché è ovvio che non si può fare solo riferimento al campionato di Serie A e Giuntoli abbiamo visto anche nel mercato invernale è andato a prendere due profili come Thiago Jalò e Alcaraz che nulla hanno a che vedere con la Serie A del momento è andato a prendere dei giocatori che con gli osservatori è andato a studiare eccetera eccetera e quindi assolutamente può esserci l'inserimento di un terzino o comunque di un giocatore difensivo che possa giocare magari destra sinistra o anche centrale difensivo che possa andare a completare la rosa della Juve poi ribadisco i vari nonge che non abbiamo citato perché giocano nel Gen magari Alcaraz rinnova il prestito non lo so Kai Orge non lo riesce a piazzare quindi rimane alcuni giocatori della Next Gen che vengono aggregati alla prima squadra come sta succedendo da anni a questa parte la Juventus potrebbe andare a completare questa rosa di 24 giocatori 23 giocatori inserendo anche altri prospetti di questo tipo quindi avremo una rosa finale bene o male così che secondo me sarebbe già un buonissimo una buonissima base di partenza soprattutto perché poi la Juventus potrebbe andare a schierare una formazione di titolare di tutto rispetto con una formazione di riserve invece molto coerente con quello che dovrebbe essere il piano tattico della Juve e infatti ipotizzando un 4-2-3-1 la Juventus avrebbe Scesni Cambiaso Danilo Bremer Calafiori Fagioli Ederson Cobbmeiner Schiese Ildis e Vlaovic come titolari per me questa formazione sarebbe equilibratissima anche molto adatta Tiago Motta qualitativamente molto 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 elevata e con un potenziale in grado di far paura ci sarebbero pochi acquisti perché stiamo parlando di Calafiori da mettere al fianco di Bremer stiamo parlando di Ederson che è di Cobbmeiner dell'Atalanta e rientro di Fagioli che è già avvenuto in occasione di Bologna Juventus 3-3 quindi tre acquisti per arrivare a fare questa formazione che secondo me sarebbe davvero una delle migliori in Serie A una delle migliori come riserve avresti Di Gregorio e ovviamente Pinsoglio Giallò Rugani Gatti e un terzino per andare a completare quel blocco di otto difensori più magari uno aggregato dalla Next Gen che diventano nove Barenicea Locatelli e Nicolussi che sono tre giocatori che possono anche fare più ruoli il mediano la mezzala forse Nicolussi anche qualche metro più avanti lo potresti vedere come Fagioli in assenza magari di Cobbmeiner quindi giocatori che possono anche ricoprire lo stesso Ederson che a Salerno faceva trequartista giocatori che possono un po' girare per il campo come piace a Tiago Motta andare a ricoprire più ruoli a coprire più spaste eccetera eccetera e davanti Milik Ealing e Weha e ripeto magari un altro colpo di quelli alla giuntoli che non ci aspettiamo un altro giocatore aggregato un altro giocatore della Next Gen dovrebbe completare un attacco che secondo me è molto coerente molto molto coerente che dovrebbe fare quello che poi deve fare un 4-3-3 quindi avere un giocatore al centro e di fianco degli esterni in grado di dribblare e creare superiorità numerica anche con delle falcate importanti e Iling e Weha credo che siano giocatori ideali per fare questa roba qui e quindi fatemi sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti fatemi sapere se secondo voi intanto è possibile costruire una Juve di questo tipo se sì se vi piacerebbe e nel caso quale potrebbe essere il destino di una Juve del genere nata da Tiago Motta tra Serie A Coppa Italia Super Champions League Super Coppa Italiana e mondiale per il club perché l'anno prossimo giochiamo 5 competizioni quindi servirà aumentare la qualità della rosa e poi inserire anche dei giocatori magari che noi non ci stiamo aspettando quindi oltre a quei 5 colpi altri 2 di quelli che passano in sordina e vanno a migliorare ad allungare la squadra ciao a tutti ragazzi e forza Juve grazie a tutti